Tutti in classe si comincia. Suona oggi la campanella di inizio anno scolastico in 5 regioni italiane, Abruzzo, Basilicata, Friuli, Piemonte e Trentino. In tutte le altre regioni le lezioni partiranno tra domani e venerdì. Tornano sui banchi 7.750.000 studenti, quasi 60.000 in meno rispetto allo scorso anno. Saranno invece 10.000 in più, quasi 235.000, gli allunni disabili. Siete voi il centro della scuola, ha scritto agli studenti Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione, che nel tradizionale messaggio ha rivolto loro gli auguri di buon inizio e di buon lavoro, con un pensiero per le zone colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia. Auguri anche agli insegnanti. Tornano in cattedra 800.000 docenti, ma nelle 370.000 classi italiane mancheranno almeno nelle prime settimane buona parte dei circa 100.000 supplenti. Ma è solo uno degli irrisolti problemi che si ripresentano anche quest'anno all'apertura delle scuole. Sono in arrivo le proteste annunciate dei dirigenti scolastici e l'avvertenza per il rinnovo del contratto degli insegnanti, fermo da otto anni.